Un antico sarcofago egizio. Non toccarlo! Scusa, stavi dicendo? Ah, la tua faccia! Cos'è la mia faccia? Sei maledetto! Le maledizioni diventano permanenti se non si annullano subito. Così si fa. Allora, qual è il piano? Sbrighiamoci, prima che sia troppo tardi. Preparati! Mumia non ha tutto questo tempo. Per un'avventura. Voglio vedere il mondo. In giro per il mondo. Qui la polizia! Ferma dove sei! Le mummie sono solo egizi e tu non sai che un mucchio di ossa putrefatte? Grazie. Me lo dicono tutti. Aveo l'esploratore. Che cosa hai fatto alla Gioconda? L'ho sistemata! Dal 22 settembre solo al cinema.